Ma com'è già? Perché non lo vanno guidando il marito? Ora vuoi indicarlo sui? Ecco, non parlo perché ti abbia con me? Ti abbia con il marito tuoi? Perché l'ho mai facciato il marito? E poi, vorremmo raggiungere la scena e il giardino? Io voglio dire una cosa a tutti che vogliono sbattere se fanno, se credono se vanno a fare bello quando vanno loro ma è più bello che sta a casa Stella, Schweppi, sono l'unica e sola mi dispiace quell'altro è inutile che vuoi sbattire tipo così non c'è paragone, amore un po' che lo faccio tutti per quelle ragazze che so qui nel suo sbattimento un bacione a tutti quanti voi comunque come andate un po' che lo faccio ci vediamo è inutile che